le carte saranno molto bene che sbagliato poi ho preso tutte quelle bianche tranne una le coloriamo le carte per il caso quelle si che sono ammaestrate ma non truccate sono solo ammaestrate nel senso che io posso fare queste cascate oppure dei ventagli d'estate quanto caldo oppure questa evoluzione sono tutte blu guarda tutte blu come non ho capito scusa adesso mai faccio vedere erano tutte blu sono proprio ammaestrate ok adesso ogni tanto poi tra l'altro le carte riesco a mangiare bene ma non provateci voi bene allora facciamo vuoi fare ancora l'esperimento bene allora facciamo un'altra cosa ancora più dimmi un numero tre tre ok io prenderò la terza carta sarà la tua scelta una due e tre guarda questa carta ti faccio notare che se avessi detto due sarebbe stato questo o uno quest'altro hai detto tre guardo con la carta a me meno che a me ovviamente a me ovviamente mi tiene le mani e adesso sarà due dacci tutto su là con una polizia bianca adesso pensa a quella cosa non parare perché da dove raccogirei guarda incomincio a quelle tre si sento una carta rossa aspetta 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 sto calzando tanta voce le carte rosse sono tante ma quale sarà aspetta eh aspetta avvicino una foto una foto al tuo pensiero guarda fatto vediamo se ho aspettato giusto mamma ma le sai memoria e se le mischiamo prima fai vedere intanto la carta anche all'operatore regista anche se no rimane in combinata grazie mi sembri uno sguardo no hai giocato democraticamente si è rimasto questo punto prendiamo una casa posso muoverla? no 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 non prendere una casa sceglila va bene altrimenti puoi cambiarla eh va bene va bene ok l'avete vista tu? no aspetta film eh ok ok ci siamo come ti chiami? eh saggio no non è vero no no ma guarda no ma guarda faccio mescolare anche te se vuoi eh adesso è agenda adesso mi guarda no 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 veramente io no 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 sono vero guarda mescola tu mescola mescola guarda sai sai mescolarlo? si se ne mancano qualcuna è tutto ok no 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 sono giusto sveglio no ma sasha fai così ho fatto ok sei uscita stai vedere che era proprio quella no non devi dirlo coppamela un attimo non si sa mai coppamela ok bene adesso eh di nuovo è fatto è fatto è fatto ok adesso guarda l'ho filmata l'ho filmata aspetta aspetta l'ho filmata io cercherò di battrire in tre secondi troverò la tua carta guarda uno due e tre eccola eccola questa è la carta gira 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 no no oh e non sono mica dio ho sbagliato allora facciamo una cosa io ti do il mazzo adesso aspetta 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 ti do il mazzo aspetta allora tu gira così davanti a te pensando alla tua carta quando la tua carta la vedrai passare non avere nessuna emozione nessuna reazione perché io comunque lo capirò e ti dirò alto questa è la tua carta perché è come vedere una bella donna no? avrai la stessa emozione ok ok tu gira le carte pensa alla tua carta concentrati vai ma non devi fare una mossa non devi fare una mossa si non devi darmi nessuna calma calma mi devo veramente dai dai vai vai guarda guarda sulle carte perfetto no non è ancora uscita no 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 parti da sopra vai avanti si non complicare le cose vai io mi devo concentrare bene vai vai ma guarda qui devi pensare la carta cazzo se no permetti diventa impossibile porca miseria non ti vorrò mica aiutare eh no scusa eh eh no ma dai mi devo concentrare capisci mi devo concentrare mi devo concentrare grazie grazie mi sono concentrato troppo mi è venuta ma non viene più buono cazzo si guardavano qua ma anche lui non scherza oh 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 vai Mino anche Mino non scherza avete mai visto le carte volare 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 no volare no in modo invisibile si si ok allora guarda qui ti do la responsazione prendete aspetta però aspetta prima di tutto aspetta no 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 voglio farvi vedere una cosa importante questa aspettiamo l'altro vi faccio vedere nella tasca a parte l'accendino cliccono l'altro niente ok? questo è importante per il seguito eh ok a questo punto prendi la testa vuoi cambiarla se non è andata a sapere? farla vedere farla vedere io lo guardo farla vedere qui ok? ok fatto? bene ok mettila qui ricordala soprattutto ricordala ricordatela vedrete veramente qualcosa di incredibile io mi sperto la carta mi sperto taglio voilà adesso la carta è chissata io lo so ho filmato adesso vado ricordate che in tasca c'era nulla allora io sento già una carta che sa guarda hop è già sopra si è la sua carta guarda adesso hop è visibile vola 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 oh eh ho già una carta in tasca vi ricordate che c'era nulla prima? era una donna di cuori vero? assolutamente adesso facciali incontrare guarda da sopra il mazzo io la metto in tasca e guarda dalla tasca hop la carta vola 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 hop e già è arrivata il suo mazzo mazzo ahahahah no no ancora ancora oh hop è finito tutto il mazzo in tasca la tua gatta è rimasta non guardavamo di là ma non guardavamo di là tu hai seguito eh sì ma non guardavamo di là e poi qui e basta che io voglio guardare ok chi ha un anello? non finisce più l'anello, l'anello chi ha l'anello? chi ha l'anello? hai l'anello? cazzo full immersion del mare 10 minuti